bello a tutti ragazzi sono Deislink nei Madplayers e bentornati nella serie di come fare una mod con il programma Link Sales Mod Maker in questa puntata andremo a vedere come annunciato nella precedente come fare la Recipe di un item di un blocco e quindi la Recipe normale e la Form is Recipe Adesso andiamo a fare Open Yes Desktop Questo Questo E questo Ok, ce li ha aperti tutti e due Poi per il nostro bug dobbiamo andare a riprendere Dov'è? Textures No, sbagliato Dobbiamo andare a riprendere Queste due E Aspettate Queste due Adesso facciamo LimeBlock E facciamo Browse E desktop Ed è questo LimeDust vi spiegherò dopo Cos'è Lime Facciamo Browse E Facciamo Lime Apri Save Questo qua l'ho salvato? Beh, lo facciamo due volte Non si sa mai LimeBlock Apri Salva Ok, bene Adesso andiamo prima di tutto a creare Un nuovo item Quindi andiamo su Si, item 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 name Lo chiamiamo LimeDust Vi ricordo che qua non potete lasciare spazio in item name Nel display invece si Quindi facciamo Pol Vere Di Lime Non è neanche un neon armor Ne possiamo mettere Si, 64 Ma non è neanche un cibo Fue il valore Non lo so Creative tab Lo troveremo Nei materials Ehm Manca solo Browse Io mi sono già preparato la texture Questa qui LimeDust Diciamo crea Ok Mi sono già preparata Fa schifo però Accontentatevi Ecco Ehm Tipo una cacca Ehm Poi Quindi adesso Dobbiamo andare a creare La nostra Recipe Ne creeremo Due Perché Allora L'output Cioè quello che Crafteremo Sarà In questo caso Il blocco di Lime E Ci vorranno 9 Lime Normali Infatti Quando il blocco di Lime Viene distrutto Ci droppa No Ci droppa 9 Lime Che mettendoli nella crafting Andranno Eh Recipe Name È Il blocco di limone Blocco Di Lime Eh Quanti ce ne droppa? Ce ne droppa uno Va bene No sbagliato Ce l'ho fatto fare un'altra No Quindi vediamo adesso se ce l'ha Possiamo modificare Si Ok Togli Adesso Ehm Facciamo un'altra Recipe Che è quella del Lime La Recipe del Lime 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 E E Quindi Andremo a Craftarla con Quattro Polvere di Lime Ok Quindi si possono mettere anche nella crafting premendo e semplice Eh Facciamo Ce ne droppa Si uno Facciamo crea Ok Quindi Adesso vi faccio vedere perchè ho creato il nuovo La nuova Lime Dust Perchè? Per andare a fare Fornace Recipe Intanto è Ehm Mettiamo Lime L'Input Ci mettiamo dentro Lime E quando lo bruceremo ci andrà a dare la polvere di Lime E ce ne dropperà quattro Quindi non sarà farmabile A meno che se ne volete fare quattro bruciate un Lime E ve ne da magari che ne so otto Così fate due Lime Li ribruciate Ve ne danno sedici e così via Quindi noi ne mettiamo quattro Save Bene Quindi abbiamo creato Blocco Item Recipe E Fornace Recipe Adesso andiamo a fare mod name Ovvero Lime Mod Non potete lasciare spazio neanche qui Generare nel desktop Allora vediamo Quando finisce Ci vuole un poco Eccolo Quindi chiudiamo Ok Ecco Chiudiamo tutto La cosa che io consiglio sempre è Se avete L'altra volta abbiamo fatto Percento Percento Cominciate anche voi ad andare Su Roaming Punto Minecraft Bin Tasto destro Lo aprite con Con La fate apri con Winrar Oppure fate programma predefinito E fate doppio click Quindi ogni volta potete fare anche doppio tasto E ve lo apri con Winrar Questo è il suggerimento Quindi Allora l'ho aperto due volte Eh Quello che suggerisco io È sempre Diciamo Ogni volta Eh Magari Riscaricare Tutti i pacchetti Di Minecraft Perché potrebbero andare in conflitto La vecchia mod Con quella nuova Scusate La vecchia mod Con quella nuova Che stiamo andando a creare Quindi fate E Fa crashare Insomma Quindi fate force update Adesso non penso ci metterà Eh sì 62 027 Adesso ormai ci metto un botto Perché sto registrando molto evidentemente Allora ci vediamo quando ha finito Ok bene ci siamo Ha finito Quindi adesso andiamo In Allora devo tirarmi fuori di nuovo Vpal Modloader Dopodichè Per C Punto Up Data Per cento Invio Punto Minecraft Bin Minecraft Andiamo a delettare di nuovo il meta inf Quindi io consiglio di farla ogni volta questa cosa Ragazzi Eh Sì Dopo ci mettiamo dentro il nostro modloader Olè Ma non mi è comparsa Un po' strano Eh Quindi Ah forse perchè Ok Vediamo se si apre Minecraft Ok 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 Mojang Ok Allora Adesso andiamo a prendere il nostro minecraft.jml E quindi Andiamo ad inserirlo qui Vediamo se funziona Ed eccolo qua ha funzionato Allora Allora Intanto mettiamo via Questo lo mettiamo nei progressi Un attimo ragazzi Eh Questo lo mettiamo nelle texture personalizzate Dopodichè Facciamo così Single player Single player Link 6 Play Ok 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 Bene 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 Allora mi ero fatto Non so perchè Avevo Se è andato in giro No Che palle Aspettate un attimo La musica fuori dalle balle Dopodichè Allora Stupida pioggia fastidiosa Vediamo dove ci mettiamo Ma si possiamo metterci anche qua Ecco Ehm Quindi andiamo a prendere Intanto Il nostro Lime Bloc Poi Andiamo a prendere Una fornace Che però è nei decoration blocks Giusto Si Fornace Crafting table Ehm Ehm E poi i nostri due nuovi Item Allora L'avevo messo in materials Una cosa mi sembra Dove Where is it? Where is it? Ah La cacca E poi ci serve il line Che avevamo messo nei food Dove è il line Eccolo qua Quindi Adesso Facciamo Ehm Ehm Intanto proviamo a vedere se funziona Ehm Crafting Crafting Fornace Mettiamo Ah Ehm Quindi il lime Doveva bruciare Aspettate che prendo del coal Ehm Che sta 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 ancora qui Mi sembra Non mi ricordo Ehm Ragazzi Ehm 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 Andiamo Andiamo Ehm 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 Sì Volevo solo provare a fare un'altra cosa Ovvero Ehm Devo mettere T slash Gamme Mod No Sbagliato Uno Facciamo Prendiamo un attimo I tools qua Allora Allora vi faccio vedere L'altra volta Avevo detto Ma non avevo provato Che se mettevo per esempio Le caratteristiche del wood Veniva minato più velocemente No aspetta Facciamo qualcosa che mina lento Diciamo così Ne ho un iron Ne ho più lento del Ok Quindi Ok Combat Prendiamo ancora una spada di iron E vi faccio vedere Allora Aspetta Mi servono Quanti sono i tool Sono quattro Quindi io prendo Quattro blocchi No potevo anche prenderne uno però Allora Ne mettiamo Uno Uno Quasi Uno Uno E due Dopodiché Buttiamo Togliamo Togliamoci Dalla creative Game Mod Mod Zero Che schifo è sta roba Boh Ok Dopodiché Andiamo a vedere come si spaccano Poco in fretta Questa è la spada Ovviamente con tutti ci droppa Perché il legno con qualsiasi cosa lo spacchi ci droppa Ok Sono più o meno uguali Questo poi proprio lento Vediamo di quanto c'è differenza Ecco vedete vedete Con questo ci abbiamo messo molto molto poco Quindi se voi mettete la caratteristica Quindi wood materials Se ne cosi li Se mettete wood Ovviamente lo minerà più velocemente con l'ascia Quindi abbiamo testato che tutto va tutto funziona Siamo tutti contenti E basta Allora Mamma mia quanto sto laggando Vabbè Quindi Dal vostro day snips laggoso è tutto Spero che il tutorial vi sia stato utile Nel prossimo episodio faremo un mob E quindi Link della puntata scorsa in descrizione E noi ci vediamo al prossimo video Della serie di tutorial Di come creare una mod con Linksace Mod Loader Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti